Obiettivo raggiunto, la Nissa centra un'importante vittoria al Virciglio di Campofranco contro l'ostico Mazzara e rimane in piena corsa per i play-off che valgono la promozione in Serie D. Una vittoria sofferta di Cortomuso, come si dice oggi, un gol al diciottesimo della ripresa del difensore centrale Dario Conti che raccoglie una respinta su un bolide su punizione di Ilario, ha deciso un match difficile contro una squadra ben organizzata e guidata da mister Domenicali, tecnico di esperienza che ha anche allenato in passato il Gela in Serie C. Tre punti che mantengono la Nissa a stretto contatto con la zona di vertice. Una domenica che oltre ad essere positiva sul campo lo è stata anche negli altri terreni di gioco, dove si sono disputate partite importanti. Le sconfitte di Misilmeri e Profavara hanno infatti accorciato ulteriormente la classifica e da domenica i biancoscudati di mister Angelo Bognanni avranno impegni sulla carta alla portata. Il prossimo impegno è infatti sul campo del Monreale, squadra che naviga nei bassi fonti della classifica, ieri ancora una volta sconfitta. Non sono comunque ammesse più distrazioni per i biancoscudati. Tornando alla gara di domenica del Virciglio, va detto che pur essendo stato un match equilibrato, i reparti biancoscudati sono apparsi coesi e soprattutto quello difensivo non ha corso mai grandi pericoli ed è stato concentrato e compatto. Non si sono insomma viste le ingenuità fino al precedente impegno di campionato in casa con il Marineo. Una condizione fisica e mentale ottima dunque quella della Nissa, che fa bene sperare per i prossimi impegni di campionato.